Allora, sono passati oltre 365 giorni da quella giornata storica della lettura della sentenza trattati da Stato Mafia, sono state date pesantissime condanne per altri uomini della politica, dell'arma dei carabinieri e boss di Cosa Nostra, un nuovo processo, nuovi giudici, nuovi avvocati ma lo stesso obiettivo che è quello del raggiungimento della verità e della ricerca di mandanti esterni. Quali sono le sue sensazioni con questo nuovo processo che è iniziato lo scorso lunedì? Guardi, è ovvio che qualsiasi pronuncia di primo grado debba essere poi sottoposta a un nuovo vaglio in secondo grado, in appello. Certamente la sentenza di primo grado è una sentenza molto approfondita e molto ben motivata e al di là di quella che sarà la decisione della Corte d'Appello e poi della Corte di Cassazione sulla responsabilità penale dei singoli imputati c'è un dato di fatto che nessuno potrà mai farveni in meno e cioè che quel processo ha fatto emergere dei fatti intanto, delle vicende che sono nella loro oggettività consacrate definitivamente e che sono vicende che si intersecano in maniera assolutamente profonda con le stragi sia del 92 che del 93. Quello sulla trattativa Stato-Mafia è un processo che ha finito per fare ulteriore luce sulle stragi per indicare ulteriori approfondimenti che devono essere fatti per cercare di capire chi assieme agli uomini di Cosa Nostra quelle stragi in qualche modo concepì, organizzò ed esegui. Proprio alla luce del processo trattativa Stato-Mafia di cui lei è stato protagonista come pubblico ministero molto spesso ci sono, arrivano voci di opinionisti, professori universitari, giornalisti che additano o dicono che i giudici e le sentenze anche definitive non possono fare la storia di un paese o di un fatto storico Lei che cosa risponde? Ma io rispondo che il processo ha dimostrato che lo sforzo di noi magistrati inquirenti e quello dei giudici è stato quello di verificare se determinate condotte di singoli imputati costituissero reato o meno è chiaro però che sono emersi dei fatti che comunque hanno riguardato dei pezzi importanti della storia criminale e non solo criminale dell'Italia in quegli anni quindi quando i giudici muovendo alla ricerca di prove per dimostrare la sussistenza di reati in capo a singole persone incrociano delle vicende che hanno una portata più ampia è chiaro che i giudici devono valutare anche quelle vicende è un errore ed è una profonda ingiustizia nei confronti soprattutto dei colleghi della giudicante dire che hanno voluto processare la storia no, sono stati processati uomini accusati di avere commesso dei reati ma sono stati fatti che hanno incrociato un pezzo importante della storia della Repubblica Italiana in un momento in cui quella storia è stata insanguinata dalle stragi quindi considero assolutamente ingiuste e ingenerose le accuse di chi sostiene che quella sentenza processi la storia e non singoli imputati per singoli reati le ultimissime due domande la prima, ieri si è pronunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ne ha parlato anche poco fa riguardo al caso Siri volevamo sapere appunto qual è stato secondo lei il segnale che ha voluto dare il Presidente Giuseppe Conte con questa sua decisione io preferisco non parlare del singolo caso io ho semplicemente sostenuto e ricordato anche questa sera ma lo sostengo da tempo che determinati fatti devono essere valutati non solo alla luce dell'eventuale responsabilità penale ma devono essere valutati dagli organismi politici anche per capire se possono essere forieri di una responsabilità di tipo politico io credo che qualunque segnale vada nella direzione di una assunzione di responsabilità della politica nel valutare le eventuali responsabilità politiche di una condotta sia un segnale positivo la politica nella lotta all'illegalità non deve appiattirsi semplicemente aspettando gli esiti definitivi dei processi deve conservare un'autonoma capacità di valutazione dei fatti perché la sfera della responsabilità penale e la sfera della responsabilità politica sono due sfere diverse il giudice penale deve accertare la responsabilità penale ma la politica può anzi deve anche valutare responsabilità di tipo diverso l'ultimissima cosa è stata approvata una proposta di legge sul reintegro dell'educazione civica a scuola in questa proposta di legge è stata approvata un'altra proposta relativa allo studio della lotta alla criminalità organizzata la lotta alla mafia è una proposta mossa dal Movimento 5 Stelle ideata da loro che cosa ne pensa e qual è il ruolo dei giovani oggi nella lotta alla mafia e alla mentalità mafiosa soprattutto? Io muovo da una constatazione, da un principio fondamentale la lotta alla mafia è una lotta per l'affermazione della libertà, della democrazia per l'applicazione dei principi costituzionali della nostra carta quindi è un aspetto fondamentale dell'educazione civica che si deve portare avanti in favore dei ragazzi quindi è una proposta di legge che mi sembra muovere nella giusta direzione la mafia non è soltanto un fenomeno di ordinaria criminalità è un fattore di grave compressione e compromissione delle nostre libertà, della nostra democrazia e io penso che i giovani debbano essere messi in condizione fin dal momento in cui affrontano gli studi scolastici di sapere e conoscere quanto più è possibile per formarsi la loro idea e per formarsi una mentalità che poi può essere quella mentalità che può sconfiggere la mentalità mafiosa così diffusa nel nostro paese grazie mille grazie a voi è stato un piacere, un onore grazie mille grazie a voi